Ma io ho avuto questa fortuna che però che ho anche un po' calcolato e ci speravo di ottenerlo quando dopo che ho registrato i primi due album che sono usciti io per i fatti miei ho registrato anche già il terzo disco questo cosa vuol dire che quel terzo disco è diventato il primo disco con cui ho firmato un contratto con l'Universal nel 2002 e quindi quando loro sono arrivati ho detto boh ragazzi ma sei forte dai volevo prenderti lui ho detto ragazzi ok però io il disco l'ho già fatto e quindi loro sono andati in paranoia e quindi questa irruenza li ha conquistati Rock TV solo su Sky canale 718